Topolino diventa verde. Domani in edicola un numero speciale dell'eroe tutte orecchie e cervello. Il fumetto in edizione ecologica sarà totalmente a impatto zero, a partire dalla copertina significativa in Total Green. Titolo Topolino e la beta betulla. Il giornale risponderà a tutti i suoi appassionati che aderendo all'iniziativa della Disney, del Ministero dell'Ambiente, in collaborazione con l'organizzazione LifeGate, impegnata da tempo nella riduzione delle emissioni di CO2, hanno dato i loro suggerimenti per un pianeta più in salute. Tantissime le lettere arrivate, tutte consegnate al Ministro Stefania Prestigiacomo, che proprio per ringraziare i ragazzi di tanto interesse ha reso possibile la nuova avventura. Insomma, tutti pazzi per il topo più famoso del mondo, da domani anche ecologicamente corretto. Federica Pirchi, o Sky TG24.